Stiamo nel Cilento, a San Marco di Castellabate, una a tre giorni, per approfondire i temi sul diritto dell'Unione Europea. Enrico Doeringer. Parte da Castellabate, nel Cilento, dalla tredicesima edizione dello stage in diritto dell'Unione Europea, promosso dall'Ordine degli Avvocati di Napoli, nel ricordo dell'Avvocato Andrea Caffiero, la riflessione che una maggiore integrazione comunitaria passa necessariamente non solo attraverso la libera circolazione delle merci e delle persone, ma soprattutto attraverso una condivisa Europa dei diritti e dei doveri, con un particolare riguardo alla tutela dell'ambiente. La campagna terra di eccellenze, come il Cilento, ma anche di disastri ambientali. Il tutto alla luce del diritto europeo? Sì, la legge 68 2015, che è stata emanata il 22 maggio, è un primo passo verso la direzione giusta, quella dell'adeguamento della legislazione nazionale italiana alle direttive europee in ambito ambientale. L'inquinamento ambientale e il disastro ambientale ormai è stato introdotto all'interno del Codice Penale. Questo è un fatto che deve essere salutato con estrema positività. Però, superato questo dato, l'operatore del diritto deve valutare anche i limiti, le antinomie, le contraddizioni che questo testo normativo in qualche modo introduce. La vera scommessa per il recupero dell'ambiente passa attraverso la prevenzione, che veda l'ambiente non come qualcosa che è al di fuori di noi, che si può danneggiare, deteriorare, inquinare, ma qualcosa che ci appartiene, che sta a noi preservare perché è un bene comune.